Luca e Ivana, sono già avvenute le presentazioni in famiglia, il gesto del padre di lui stupisce Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme e sono già avvenute le presentazioni in famiglia. La storia tra Luca e Ivana del grande fratello Vip è più seria che mai. L'extronista di Uomini e Donne e la modella ceca sono uscite allo scoperto e hanno già conosciuto le rispettive famiglie. Onestini ha visto la madre della Mrazova, che vive in Repubblica Ceca, tramite internet, mentre la ragazza ha avuto il piacere di incontrare i genitori dell'ex Mister Italia dal vivo. . E Ivana è stata accolta come una figlia in casa Onestini. . A stupire è stato soprattutto il padre di Luca che, come rivelato dallo stesso ragazzo, ha assunto nei confronti di Ivana un atteggiamento ben diverso dal solito. . Da sempre freddo e riservato, il signor Onestini è stato più che mai dolce e affettuoso durante il suo primo incontro con Ivana. . La confessione di Luca Onestini sul padre. . Quando ho visto mio padre, che di solito è un ghiacciolo, salutarla con un abbraccio come se stesse salutando me, mi sono emozionato ha confessato Luca Onestini al settimanale Chi. . Ivana Mrazova è invece già pazza dei nuovi suoceri. . . . Sono pazzeschi. . Ha assicurato la conduttrice di 90 Special, il nuovo programma di Italia 1. . . Ex tentatore di Temptation Island ha conosciuto la madre di Ivana via Facetime e ha subito fatto una buona impressione alla signora. . Le piace molto ha spiegato Lamrazova. . . Luca e Ivana vogliono un figlio al più presto. . 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